Sono 23 kg di marijuana sequestrati nei pressi dei lidi di Torregnazia, nel Barese, e dai carabinieri del locale commissariato. La sostanza stupefacente era stata suddivisa in quattro pacchetti pronti per lo spaccio. Non si tratta di un episodio isolato, poiché le zone nei pressi di Monopoli sono aree dove i contrabbandieri trasportano via mare cariche di sostanze stupefacenti destinate al mercato pugliese, e per questa motivazione negli ultimi tempi sono stati intensificati i controlli locali. Nella zona di Santo Stefano, infatti, lo scorso ottobre fu identificato un deposito di droga contenente 664 kg di marijuana e fu sottoposta a sequestro un'imbarcazione che probabilmente veniva usata per trasportare droga via mare. Lo scorso febbraio, invece, gli uomini dell'arma rintracciarono un ingente carico di marijuana pari a 840 kg e un gommone, ma non riuscirono a catturare i contrabbandieri che si diedero immediatamente alla fuga.